Una vera rivoluzione nella giunta messinese al comune di Gela, il sindaco rompe con tre assessori e presenta subito alla stampa i nuovi nomi. Licenziati dunque Pietro Lorefice, Cetti Damante e Nuccio Di Paola. Sentiamo dal sindaco di Gela che cosa lo ha determinato ad assumere queste importanti decisioni. Matura per dare le risposte alla città, per poter trovare quell'armonia all'interno della giunta che serve per raggiungere gli obiettivi. In questi mesi di rodaggio ci siamo resi conto che vi era una separazione netta, non c'è stata la volontà di fondersi in un unico corpo che in modo armonioso potesse camminare per dare quelle risposte che la città ha bisogno e siccome la città viene prima di ogni cosa, prima di ogni indicazione, davanti a ogni tipo di amicizia e allora è stato doveroso da parte di questa amministrazione provvedere a sostituire quella parte che non si è adeguata. Questi i nomi dei nuovi innesti in giunta. Francesca Licia Abela avrà delega ai servizi sociali e all'istruzione. Flavio Rocco Di Francesco si occuperà di lavori pubblici e decoro urbano. Angelo Eugenio Rosario Catania guiderà l'assessorato competente al controllo del territorio sport ed eventi. Sono tre tecnici che sono in grado sicuramente di poter gestire i vari settori in modo molto più programmatico e quindi per finalmente far partire alcuni settori importanti come i servizi sociali, come lo sport, come la sicurezza del territorio e come lavori pubblici che sicuramente qualche problema in questi giorni ci sono stati. La nostra giunta è una giunta per la città e quindi quando come obiettivo principale c'è la trasparenza, c'è l'onestà verso la città per poter risolvere i problemi in modo serio questa sicuramente è una giunta pentastellata. A prescindere da quanto tempo una persona è più o meno militante perché non è tanto il fatto di dire di appartenere a un gruppo un altro ma è importante le azioni che si fanno. Sono le azioni che ci rendono e ci danno quella targa che qualcuno in modo improprio invece ne fa uso e abuso. Licia, Abela, Eugenio Catani e Flavio Di Francesco sono i tre nuovi assessori comunali di Gela chiamati dal sindaco Domenico Messinese a sostituire Chetti Damante, Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola. Licia Abela, 32 anni, sposata madre di una bimba e il nuovo componente dell'esecutivo a cui sono state affidate le deleghe ai servizi sociali e all'istruzione. Laureate in scienze dell'amministrazione, il neoassessore presentò una tesi in sociologia del territorio sullo sviluppo di Gela. Una città che amo, nella quale sono nata e nella quale vivo da quando sono nata e quindi ho una grande voglia di mettermi in gioco, di cominciare a mettere all'opera tutto quello che mi sarà consentito di fare soprattutto la cosa che mi preme è quella di mettere il cittadino al centro dell'attenzione per quello che sono appunto i miei settori, cercare di cominciare a doliare bene la macchina amministrativa affinché tutti insieme possiamo formare una squadra che possa funzionare e dare le risposte che la città merita di ricevere. 41 anni, software engineer della ST di Francesco, è sposato ed è padre di quattro bambini. Lavori pubblici e decoro urbano sono le deleghe assegnategli dal sindaco. Lo faccio con spirito di abnegazione soprattutto per la città perché anche il mio impegno durante la campagna elettorale perché ero candidato alle ultime amministrative era solo alla luce del bene della città e dei cittadini. Gela ha tanto bisogno e il mio ruolo sarà quello di cercare a tutti i costi di reperire fondi dalla comunità europea perché senza quelli chiaramente i lavori pubblici non potranno andare avanti quindi il mio obiettivo sarà solamente quello e cercare di far lavorare al meglio quelli che sono gli uffici di competenza ai vari settori. Eugenio Catania ha 32 anni e laureato in giurisprudenza ha conseguito un master in economia all'università di Palermo e condotto un'esperienza in Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. Lavora come legale ed è noto in città come blogger. Le sue deleghe saranno quelle al controllo del territorio, sport ed eventi. Mi affaccio a questo incarico con grande entusiasmo, sono molto orgoglioso della scelta che è stata riposta nella mia persona da parte del sindaco, cercheremo insieme con i dipendenti del settore che andrò a dirigere di cercare di fare il meglio per la nostra comunità, in particolare per quanto riguarda la Polizia Municipale che è un settore che conosco bene essendo stato dipendente della Polizia Municipale in passato. Cercheremo di dare alla città la risposta riguardo la sicurezza che è molto richiesta in questo periodo, insomma, in tutte le comunità italiane, in tutte le cittadine italiane. Conferenza stampa fiume questa mattina a Palazzo di Città, Gela dei quattro su cinque consiglieri comunali pentastellati e dei tre assessori sostituiti ieri dal sindaco con tre nuovi innesti. Rompono gli argini i componenti del Movimento 5 Stelle presenti e come un fiume in piena dicono quello che pensano sull'attuale azione amministrativa posta in essere dal sindaco Domenico Messinese. Il capogruppo consigliare pentastellato Vincenzo Giudice e il grillino Simone Morgana. Dopo gli ultimi sviluppi sicuramente da oggi noi prendiamo la distanza da questa amministrazione anche perché il metodo utilizzato da questa amministrazione negli ultimi sei mesi in cui è in carica non è in linea con quello del Movimento 5 Stelle, in quanto il Movimento 5 Stelle significa partecipazione anche politica dei cittadini e partecipazione politica di tutti i consiglieri a maggior ragione perché il sindaco, la giunta e i consiglieri sono quelle persone che poi fanno la politica, cosa che a noi purtroppo non risulta. Dal momento in cui il sindaco è stato eletto in questi sei mesi i consiglieri non abbiamo avuto modo di partecipare alla vita politica di questa città. Noi continuiamo comunque a lavorare su quello che è stato il programma che abbiamo proposto ai cittadini. Io sono un portavoce eletto del Movimento 5 Stelle, questa città ha scelto il Movimento 5 Stelle, quindi porteremo passo passo avanti tutti quelli che sono i passi del programma. Se il sindaco messinese che ha dichiarato di poter anche rinunciare al simbolo del Movimento 5 Stelle vuole portare avanti quelli che sono gli atti del programma benvengano, chiaro che noi non potremo assolutamente tirarci indietro, ma se continuerà con la politica che finora ha utilizzato di allontanamento dal programma dei 5 Stelle, di allontanamento dalla volontà del mandato elettorale, chiaro è che non avrà un sostegno da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Dicono la loro i tre ormai ex assessori della Giunta 5 Stelle di Domenico messinese, non le mandano a dire Pietro Lorefice, Chetti Damante e Nuccio Di Paola. Sono durissime le dichiarazioni degli amministratori licenziati e Pietro Lorefice si scusa con la cittadinanza indotte in errore a votare l'attuale sindaco. Il sindaco ha cercato soltanto delle scuse per poter buttare fuori i tre assessori che da sempre hanno cercato dialogo, confronto e si sono, come si suol dire, imposti all'interno alla Giunta cercando di far uscire che cosa? Dietro a seguito di una dialettica politica, un confronto a volte anche con toni decisi, ma far uscire fuori degli atti condivisi. Questo sindaco e l'attuale Giunta non sanno neanche lontanamente cosa significa confronto politico e il sindaco messinese in particolare preferisce solo gli yes men. I tre assessori che sono usciti non lo sono mai stati e perciò il prezzo che ne hanno pagato è questo, ma la città si è resa conto e si renderà conto anche in avvenire. Mi dispiace aver portato e mi sento la colpa e mi scuso con la città per aver indotto in errore tanti cittadini che anche grazie alla mia faccia hanno votato questo sindaco. Sicuramente remavamo contro alcuni atti del sindaco messinese proposti nell'ultimo periodo in Giunta, decisamente sì, remavamo contro. Io speravo in maniera democratica all'interno di un organo collegiale che forse questo sindaco non sa neanche cosa significa, letteralmente e formalmente parlando. Una Giunta decide politicamente, prende atti amministrativi in forma collegiale, non in forma singola. Non è un sindaco, io non ero al servizio del sindaco. Io sono un assessore, sono stata nominata assessore perché Movimento 5 Stelle e dunque che è con lo spirito che connota il Movimento 5 Stelle, partecipazione e condivisione dei progetti politici. I portavoci regionali e nazionali sanno delle politiche che si stanno attuando qui a Gela. Non è Nuccio Di Paola a decidere se questo sindaco è da Movimento 5 Stelle o meno. Io posso dire solo una cosa, che ci sono centinaia e centinaia di attivisti italiani, di persone che ci mettono ogni giorno la faccia dietro questo simbolo. E se nelle idee questo sindaco e questa amministrazione non condivide questo simbolo, allora è giusto che il simbolo venga tolto. Oggi il sindaco ci dice che non ci siamo adeguati a che cosa? Al suo pensiero? Ad un pensiero unico che non vede assolutamente quello che oggi la città sta vivendo giorno per giorno? Abbiamo chiesto, e il Consiglio Comunale l'ha fatto anche come mozione, la riduzione degli stipendi, visto il periodo che sta passando Gela. Il sindaco a questo non ha mai risposto, non ha mai risposto e non si è mai confrontato su politiche importanti per quanto riguardano la città, che sono i rifiuti e sono le politiche industriali. Ad oggi la città è all'oscuro di tutto ciò, o meglio, gli è stato comunicato un qualcosa ma a cose già decise. Caponetti, torna quest'anno la tua stella di solidarietà, un'iniziativa dell'associazione anti-racket e anti-usura che ha ovviamente delle finalità benefiche, cioè sostenete delle famiglie indigenti che sono state selezionate dalla parrocchia Santa Lucia di Gela, dall'associazione Gela Famiglia e dall'associazione Il Tempio di Apollo. Dove sarete e come i cittadini possono collaborare? Sì, noi come ogni anno non ci siamo dimenticati di aiutare le persone più bisognose, però dai risparmi degli anni passati, dove una volta si pagava abbondantemente il pizzo, perché non devolverlo alla gente che ha bisogno, soprattutto se ce n'è tanta. Quindi cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza, ci collaborano come sempre le forze dell'ordine, con noi saranno presenti la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, la Polizia Penitenziaria. Quindi tutti insieme, appassionatamente, cercheremo di far passare almeno alla fine dell'anno un po' più serena per le famiglie più bisognose. Chiunque lo volesse domani, dalle 10 del mattino fino alle 8 della sera, potrà conferire, quindi portare generi di prima necessità presso la vostra sede ambulante che sarà piazzata in Piazza Umberto I. Ci sono quattro stand, tutto questo l'abbiamo fatto con il patrocinio del comune di Gela, quindi in questi quattro stand saranno utilizzati proprio per Gela Famiglia, dove esporranno i loro prodotti, i loro centrini, tutte le cose che riescono a fare per i bambini. E la stessa cosa nello stand della parrocchia di Santa Lucia, esporranno i loro prodotti. E noi nel nostro stand della associazione anti-racket promuoveremo, come facciamo ogni anno, il consumo critico. Caponetti, siamo ormai alla fine dell'anno, se dovesse tracciare un bilancio delle attività del 2015, che bilancio traccerebbe? E come vanno i lavori di ristrutturazione in sede? Allora, per quanto riguarda il nostro bilancio, dicono, lo dicono gli altri, che è stato molto positivo. Abbiamo già raggiunto un notevole numero di imprenditori e commercianti che hanno denunciato, siamo già a quota 167, quindi i risultati ci sono stati, per ultimo con l'operazione Redi Vivi, che è stata veramente una cosa eccezionale. Per quanto riguarda la ristrutturazione della sede, io penso che entro metà gennaio, fine di gennaio al massimo, già la nostra sede sarà pronta, sarà completamente diversa e avremo in più anche una sede per convegni. La Casa del Volontariato ha ospitato ieri lo spettacolo teatrale per bambini Ansel Gretel e il segreto della strega. L'obiettivo è stato quello di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie. Lo spettacolo ha proposto una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il rapporto con le persone anziane. In scena Emiliano Longo è Iridiana Petrone, anche autrice dei testi e regista dello spettacolo. Le musice originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. L'associazione culturale Nave Argo di Caltagirone collabora per la prima volta con la Casa del Volontariato di Gela. Un'esperienza sicuramente riuscita che speriamo di ripetere con profitto vista la grande partecipazione e l'entusiasmo dei bambini, dei loro familiari. Per noi il teatro da vent'anni è un'esperienza formativa che crea formazione, che crea comunità, per la quale pensiamo possa essere importante continuare a fare queste esperienze. La favola si intitola Ansel Gretel e il segreto della strega. Io ho curato la riscrittura del classico dei fratelli Grimm, Ansel e Gretel. Vi ho voluto dare una chiave di lettura prettamente per i bambini, un messaggio sull'importanza del fratello e della sorella, quindi avere un fratello e una sorella, l'importanza e le dinamiche di gelosia che molto spesso accadono in famiglia. E soprattutto ho voluto mettere l'attenzione sul fatto che la strega è una persona che mantiene nel suo cuore uno stato di odio e cresce con questo stato, con uno stato di odio, di rabbia, in questo caso di gelosia, perché la strega di Ansel e Gretel e il segreto della strega ha un segreto che è quello di essere scappata di casa, di essere cresciuta nel cuore con una gelosia per la sorella minore. Per noi è un investimento importante perché significa in qualche modo che riusciamo a contagiare la città di un'esigenza importante. L'esigenza è quella di educare questa città. È il teatro, attraverso le favole rappresentano un'occasione straordinaria per trasmettere dei valori. In questo caso con lo spettacolo di Ansel e Gretel, il valore della famiglia, dei legami. E su questo dobbiamo puntare per dare una svolta a questa città in termini educativi. Ancora un altro posto vacante nelle poltrone della magistratura nissena. È il presidente del tribunale Claudio Dall'Acqua che dal prossimo 1 gennaio 2016 andrà in pensione. Un'esperienza unica e ripetibile quella di cui parla il magistrato a capo del tribunale nisseno dal 2008. Ha presieduto i più importanti processi di mafia. In magistratura dalle 1970 fu inizialmente destinato all'apertura di Nicosia per poi essere trasferito a quella di Carini e di Monreale, dove prestò servizio fino al 1981. A Palermo invece nel 1985 fu chiamato a comporre il processo d'appello contro Marcello Dell'Utri. Alla fine del suo percorso giudiziario nell'aulamagna del Palazzo di Giustizia ha raccontato con emozione la sua esperienza alla guida del tribunale di Caltanissetta. Ha rappresentato un traguardo, un privilegio ma anche una grossa fatica ovviamente. Il bilancio finale indubbiamente è positivo e lo ritengo raggiunto nel modo più adeguato. Abbiamo cercato di dare il massimo contributo e se ci siamo riusciti lo devo non tanto a mio merito ma anche alla collaborazione, principalmente alla collaborazione di tutti i colleghi, del personale amministrativo che mi ha seguito e che quindi ha creato un clima di assoluta collaborazione e quindi si sono potuti raggiungere gli obiettivi. Quello di avere in qualche modo risolto in parte l'arretrato, soprattutto nel settore penale. Nel settore civile ancora ci sono delle sofferenze ma sono legate al fatto che il tribunale di Caltanissetta ha un turnover particolarmente complicato perché più vengono solo i magistrati di prima nomina che stanno giustamente il minimo possibile e poi appena si legittimano si muovono per le sedi di provenienza e quindi il tribunale soffre di questa alternanza e ciclicamente si riduce anche talvolta sino al 50% del proprio organico. Questo naturalmente crea dei problemi. Ma nonostante ciò siamo riusciti a raggiungere un traguardo sicuramente soddisfacente. Rispetto ad altri uffici giudiziari abbiamo ottimi risultati. Slitta ancora la riapertura della bretella sulla strada statale 640. Non sarà rispettata nemmeno la data del 4 gennaio. A darne notizie il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, che lo scorso 12 ottobre, assieme ai deputati alla Camera Azzurra Cancelleri e Gianluca Rizzo, dopo il diniego alla visita ispettiva al cantiere tramite vie laterali, allo stesso avevano potuto appurare il rilento dei lavori annunciando lo slittamento dei tempi di consegna annunciati per il 4 dicembre. Slittamento di cui si era discusso anche in seno a un consiglio comunale straordinario alla presenza dei rappresentanti della CMC che avevano garantito la consegna nei tempi previsti. Il deputato Cancelleri intanto presenterà un atto parlamentare ispettivo così da avere risposte per i cittadini. Qualche due giorni fa finalmente il sindaco, dopo che ha utilizzato la CMC come bankomat per eventi folcloristici, per concerti e per altro tipo di situazioni, finalmente si è svegliato, forse perché i soldi della CMC sono finiti, io non so, ipotizzo una cosa del genere, ma è chiaro che finalmente si è svegliato da questo tortore e ha cominciato a denunciare che ci sono clamorosi ritardi, che le opere di compensazione non ci sono. Questa mi pare che era una cosa ovvia e che da tanto tempo stavamo denunciando, perché opere di compensazione a Caltainstetta si sono risolte semplicemente nell'apertura di qualche candiere per fare qualche villetta e nella possibilità di mettere in sicurezza delle discariche che sono lavori che a tutt'oggi non sono neanche cominciati o sono cominciati in parte, ma non sono lavori che erano importanti per la città, quando invece delle opere stradali che non sono neanche proprio al vaglio di qualunque tipo di progettazione e oggi ci ritroviamo di fronte a una strada che ancora non sappiamo più quando apre, noi abbiamo avuto delle interlocuzioni con alcuni vertici dell'ANAS che ci hanno detto che loro non si sentono minimamente pronti a poter dare una data sull'apertura, quindi non solo un diritto a quella di gennaio, ma non c'è neanche una data prossima, ma forse probabilmente è anche meglio così, perché è inutile più dare delle cose. Ora l'interlocuzione col Prefetto finalmente, perché il Prefetto è quella figura giusta per mettere in campo un'azione che deve essere quella di tutela, di un diritto ai cittadini e di avere una viabilità più serena e più sicura, ricordo che dall'altra parte la strada che passa dalla nostra zona industriale è percorsa giornalmente da mezzi pesanti e c'è un traffico molto intenso durante la settimana e anche durante il fine settimana e questo sta causando ritardi e causa anche pericolosità nella percorrenza di quella strada. Ho fatto delle foto, ho fotografato invece di parlare, ho fotografato per non dimenticare, per non smettere di guardare. Questa è la frase che accompagna uno dei 64 scatti di Giovanni Di Lorenzo, il medico chirurgo, ideatore e creatore della mostra, una foto per la vita, I like, lo specchio dell'anima, in esposizione nelle sale di un noto centro commerciale nisseno. Paesaggi siciliani, i volti di uomini, donne e bambini sono i momenti di vita immortalati dal medico nisseno, dove tra il bianco e il nero e i colori delle pellicole intende lanciare un chiaro messaggio di lotta e sensibilizzazione contro i tumori. I miei scatti vogliono raccontarci la Sicilia, la Sicilia vista con i miei occhi e regalare un sorriso fondamentalmente a tutti coloro i quali vogliono aderire ad un'iniziativa del genere, il cui eventuale ricavato verrà dato alla Lega Italiana lotta contro i tumori della provincia di Caltanissetta ed è un modo come un altro per avvicinare l'arte alla prevenzione. Lo scatto a cui sono più affezionato è quello che ho deciso di mettere in vetrina, rappresenta l'inverno ed è uno scatto del mio paese, uno scatto a cui tengo tantissimo, un paesaggio con la neve. Arte e prevenzione dunque si intrecciano tra le foto, le frasi, accompagnate dalle poesie di Michele Albano, una vera e propria sfida lanciata dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Abbiamo avuto un evento fortunato, l'evento fortunato è che un chirurgo è anche un artista, è anche un fotografo di valore e che mi ha invitato a patrocinare questo evento che vuole sposare la prevenzione. Una foto per la vita è metafora di prevenzione, così come una fotografia è un fermo immagine di un racconto, allo stesso tempo un momento di prevenzione è il fermo immagine, è un pit stop della corsa della vita. L'arte aiuta la prevenzione in innumerevoli modi, innanzitutto l'arte aiuta l'essere a poter godere anche di altre cose, a produrre endorfine negli organismi e le endorfine sono delle particolari sostanze che oltre a stimolare il buon umore stimolano anche i poteri di difesa del nostro sistema e monetario.